Questa è una fattura più finale con te, no? È una fattura più dura Non riesco a mandare più, innanzi Attenzione! Tutti non con la nata, tutti non con la nata 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 Ha 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 Tutti non puoi E poi c'è la macchina Eccomare Sì poi è più tardi ho mangiato una cosa già no mi sono lasciato un panino qua sulla neve ancora non sto scendendo ciao